Elon Musk e il microchip nel cervello, tutto normale? Amici di Come Don Quixote ben ritrovati con il Tecno ribelle puntata numero 38 dall'home page di Neuralink Corporation dal 2016 azienda statunitense di neurotecnologie di proprietà del transumanista Elon Musk simpatico a Donald Trump e Matteo Salvini si legge tecnologia rivoluzionaria per il cervello ogni giorno costruiamo strumenti migliori destinati a comunicare con il cervello le potenziali applicazioni di questa tecnologia sono illimitate solo che per la conta della mattanza eravamo rimasti a 3 maiali e 23 scimmie macachi tutti morti tra atroci sofferenze per l'impianto di un microchip nel cervello testato nella Silicon Valley ma adesso però saltato dal pentolone e il coperchio da un'indagine del Dipartimento americano per la regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici apprendiamo che dal 2018 ad oggi presso l'Università della California gli animali uccisi per sperimentare la connessione neurale di Neuralink su pecore, maiali, scimmie e topi sono addirittura 1500 e in Neuralink siamo assolutamente impegnati a lavorare con gli animali nel modo più umano ed edico possibile respinte le accuse rispondono i dipendenti di Musk dall'anno scorso in cerca di volontari umani per compiere l'agoniato salto cioè ficcarsi dentro le nostre teste siamo ormai certi che il dispositivo Neuralink sia pronto per gli esseri umani il patron di Twitter prossimo al fallimento ha detto in streaming puntando a maggio 2023 la nuova deadline tra solo 6 mesi perché la tempistica dipende dal processo di approvazione della Food and Drug Administration l'equivalente della nostra agenzia italiana per il farmaco che però pare abbia già mangiato la foglia sull'asserita filantropia del magnate pure di Tesla e Starlink con la scusa di aiutare chi soffre di disabilità, paralisi cecità Parkinson, Alzheimer o altre patologie neurodegenerative il pericolo non sarebbe solo nel rilascio di sostanze tossiche, elettromagnetismo inside e sul riscaldamento del dispositivo D-Link il microprocessore cerebrale grande come una monetina che all'interno della scatola cranica dialogherebbe con i neuroni della corteccia cerebrale finendo il Wi-Fi su smartphone e computer no, tutt'altro perché dietro la parabola del buon samaritano generoso alla ricerca di una vita meno difficile per chi soffre di disabilità si sta letteralmente sloganando il transumanesimo che dal 5G ci porta al 6G cioè all'internet of bodies internet dei corpi internet dei sensi per restare sempre connessi al web visto che il corpo umano è una sorta di piattaforma tecnologica per nanotecnologie impiantabili e la biologia molecolare con nanorobotica con la bio-tele-nanomedicina come nuovo paradigma per riformare il concetto di salute e malattia sta prendendo sempre più piede si parla del telefono cellulare come ponte per trasmettere il dato ci aveva detto Riccardo Benzi medico ricercatore scopritore al microscopio di materiale apparentemente grafene nel sangue degli inoculati da covid-19 anche perché come scrive il quotidiano libero letto nella mia ultima tecno rassegna stampa prima di Musk già DARPA avrebbe investito decine di milioni di dollari per sviluppare dei dispositivi elettronici da impiantare nel cervello e dopo Musk sarebbe già pronta Science Corporation del neuroscienziato Max Odak fuggito da un aerolink e forte di 160 milioni di dollari per finire anche lui con la fotonica nella sioma cervello computer tutto normale? per approfondimenti e maggiori dettagli vi rimando a Stop 5G salute ambiente geopolitica privacy transumanesimo controllo sociale libro e inchiesta sui lati oscuri del futuro digitale Terra Nuova Edizioni oppure sul sito di aggiornamenti naturali www.osisana.com appuntamento alla prossima puntata del Tecno Ribelle e un caro saluto a tutti da Maurizio Martucci Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti